Sette note per una scala, questo è il titolo di quest'anno dell'ormai tradizionale concerto di capodanno organizzato dal Rotary Club Arezzo, al quale hanno aderito anche tutti i Rotary Club dell'area Etruria, oltre ai due club inner wheel della città, ad ospitare l'evento come sempre la Pieve di Santa Maria nel cuore di Arezzo. Protagonista del concerto, la flautista Federica Lotti, accompagnata al pianoforte da Niccolò Nardoianni e all'insieme vocale Vox Cordis, diretto dal maestro Lorenzo Donati. Il ricavato della serata di musica e festa sarà devoluto alla Croce Rossa di Arezzo per l'acquisto di una sedia motorizzata per il trasporto dei pazienti.